ma scusa se a palermo è un panino non te lo mangi no sono a dieta compa io fino a dopo fino al giorno 19 sera sono a dieta che non posso mangiare farinacidi però mi scatta la glicemia fotonica e tutto tutto fatto come dice palonoise tutto ho preso palissimo